Avvicinarono la vittima del tentativo di estorsione dicendole che al telefono, in videochiamata, c'era Rocco Moretti, figlio di Pasquale, ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clana della mafia foggiana che voleva parlare con lei. E quando si legge nelle carte del magistrato che ha disposto il fermo per Giuseppe Perdonò, 34 anni, detto Scarafone, per Andrea Carella, di 26, e per Fabio Bernardo, di 31, accusati a vario titolo di tentata estorsione, danneggiamento, detenzione e porto di pistola, reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini della squadra mobile di Foggia hanno accertato che tre, ritenuti vicini ad uno dei grandi della società, avrebbero avanzato nel gennaio scorso una pretesa estorsiva di 2.500 euro ad un piccolo imprenditore, alludendo alla circostanza che la richiesta di denaro fosse stata effettuata per conto della batteria Moretti-Lanza-Pellegrino. Io, ricostruisce la vittima, secondo quanto riportato nel decreto di fermo, scostai il telefono e dissi che non lo conoscevo e non volevo parlare con lui. In viva voce sentivo la persona da loro chiamata Rocco Moretti che mi diceva che dovevo cacciare i soldi. A rifiuto della vittima i due si sarebbero innervositi e si sarebbero allontanati in sella ad uno scooter dicendo alla vittima che adesso doveva aspettarsi dei dispetti. Il 16 febbraio scorso, proprio a seguito del mangato versamento della somma di denaro pretesa, quei 2.500 euro, gli indagati avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro il box del commerciante. Sul posto i poliziotti recuperarono tre ogive calibro 7.65 e due bossoli.